La giornata è cominciata presto per me e penso anche per voi amici e amici, però finalmente dopo tre mesi, si dai luglio, agosto e settembre, tre mesi di lavoro, tre mesi di incontri, di ascolto, di confronto, anche tre mesi di insulti, minacce, denunce, bugie, abbiamo il decreto. Il Presidente della Repubblica pochi minuti fa ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini e quindi settimana prossima il Parlamento comincerà a discutere, ad arricchire, a migliorare e soprattutto a votare queste decine di articoli che dal nostro punto di vista porteranno più sicurezza nelle strade italiane. Quindi finalmente, dopo tante polemiche, dopo che i giornali, soprattutto quelli di sinistra, dicevano che non ce la farà mai Salvini, Mattarella non firmerà mai il decreto, chiacchierano tanto ma non riusciranno ad arrivare fino in fondo, ci appalì e porta a casa. Quindi che cosa cambia quando il Parlamento approverà questo documento? Ovviamente ci saranno i ricorsi delle associazioni umanitarie, dei centri sociali e non so cosa diranno in Europa. A proposito, un bacione al Presidente Juncker, che oggi stranamente non ha ancora insultato né me né il Governo né l'Italia, però siamo a metà pomeriggio, però ci ha pensato Moscovici, il socialista francese. Socialista francese, oggi che cosa c'ha? Oggi dice che i problemi per l'Europa sono Salvini, Le Pen e Orban, responsabili dell'estrema destra. Un socialista francese che venga a dare lezioni fa ridere e comunque evidentemente se l'Europa schifa quei burocrati, quei tecnocrati, quei finanzieri che hanno impoverito e impaurito un intero continente e dà fiducia ai Salvini, agli Orban, alle Le Pen, evidentemente il problema è di chi ha mal governato per anni, non nostro. Ma torniamo a cosa cambia per l'Italia, per gli italiani e per gli immigrati regolari e per i veri profughi con questo decreto.